Fuga con clandestini a bordo nella serata di mercoledì 20 marzo a Sedilis di Tarcento. Durante un normale giro di controlli i carabinieri del nucleo radiomobile e il Cividale si sono imbattuti in un'auto che ha attirato la loro attenzione. All'ordine di fermarsi appunto per una classica verifica, il conducente del mezzo ha invece deciso di continuare la sua corsa andando dritto e superando i militari dell'arma che hanno iniziato quindi ad inseguirlo per capire i motivi di tale fuga. Dopo un breve inseguimento il conducente del mezzo ha accostato ed è fuggito in mezzo ai campi di Tarcento abbandonando l'auto che si è scoperto avere all'interno alcuni clandestini che sono invece stati fermati dal momento che a scappare era stato solo l'autista. Nel pomeriggio di giovedì 21 marzo poi per i quattro irregolari maggioregni è stato disposto il decreto di espulsione immediato mentre per il quinto un minore è stata disposta l'accoglienza presso una struttura ricettiva del Cividalese.